ancora buon viaggio ben trovati da firenze smart mauro ciutini in studio code per un incidente avvenuto in a1 tra il bivio 1 variante di valico e calenzano verso firenze sempre in a1 tra valdarno e arezzo rallentamenti per materiali dispersi sulla carreggiata tra arezzo e valdarno prudenza segnalata pioggia sulla a12 tra pisa e l'allacciamento con laurelia in a1 ricordo stanotte domani sabato dalle 22 alle 6 orario notturno chiuso il tratto compreso tra calenzano e barberino di mugello verso bologna in alternativa dopo l'uscita obbligatoria a calenzano percorrere la barberinese rientrare sulla 1 a barberino del mugello è tutto grazie a regione toscana città metropolitana e comune di firenze buon viaggio grazie a tutti